fresco fresco spi 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 ma come l'ho fatto a mi vedere? la manita è bianca beh ho girato gli acciacoli con la corda e mi ero lì con tutti i pugni non manco mica va beh facciamo la trappa oh guerriero si è cascato vado a prenderci come ho fatto a vedere ma ti fa la caga fatto a lunica c'è no perché questo non lascio preghendo a volte non so non so ma lei mi è stimulato ma lei mi è stimulato ma lei mi è stimulato No? No? Mi sono fatto un pallone nero di vedere dire Giù? Sì 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 Sì